Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TRMH24. In apertura di questo telegiornale La Cronaca, estorsione e usura ad Andria sono stati arrestati 5 esponenti del clan Pesce. Spregiudicatezza mafiosa, così ha commentato il coordinatore della DDA di Bari, Francesco Giannella. Vediamo il servizio. Una logica mafiosa, supportata da violente forme di intimidazione ai danni delle vittime, portate all'omertà per paura di pesanti ritorsioni. Estorsioni e usura, aggravate dal metodo mafioso. Queste le accuse con cui sono finiti agli arresti ad Andria 5 esponenti del clan Pesce Pistillo, la cui pericolosità era già emersa da altri filoni di indagine relativi ai sequestri Lampone e Labatt. L'indagine ha portato alla luce una recrudescenza dei fenomeni violenti in città, come conseguenza della scarcerazione di alcuni esponenti di spicco del clan Pesce, tornati subito all'attività criminosa. Tra gli elementi più preoccupanti emersi dall'operazione odierna, l'efferatezza delle intimidazioni, sfociate anche in episodi di percosse e violenze, e l'omertà delle vittime, tra cui anche un agente della polizia locale di Andria, che pure ha deciso di non denunciare. Quest'ultimo aveva avuto un incidente stradale con uno degli indagati. L'agente sarebbe stato costretto a riparrare la macchina dell'indagato, a non denunciare all'assicurazione, subendo comportamenti di intimidazione mafiosa. Mi devi aggiustare la macchina di tasca tua, io nei tuoi panni non mi ci metto, se no ti strappo la testa, come ti trovo in mezzo alla strada ti schiaccio la testa come un verme, avrebbe detto uno degli indagati intercettati all'agente. In un altro episodio di estorsione sono stati vittime anche i parenti di un uomo, costretto a restituire in brevissimo tempo quasi il triplo di un prestito iniziale di 23.000 euro. Comportamenti tutti sinonimo, secondo il coordinatore della DDA di Vari, Francesco Giannella, di una spregiudicatezza mafiosa. Molte delle minacce, delle intimidazioni che venivano, che noi abbiamo registrato, erano del tutto immotivate, cioè erano proprio delle vere e proprie provocazioni, direi persino assurdi, secondo una logica comune. Ma questa assurdità invece si spiega nella misura in cui si pensa che la logica del mafioso è quella di affermare il potere al di là di ogni logica. Noi abbiamo dovuto intervenire rapidamente con dei fermi perché davvero la situazione stava precipitando. Oltretutto c'erano anche, come dire, meccanismi di fibrillazione in generale all'interno della criminalità organizzata andriese. Si nascondeva in un appartamento del centro storico di Mola di Bari, arrestato dai carabinieri un latitante cinquantenne riconducibile al clan Annoscia operante nel traffico di droga tra Noi Cattaro ed Altamura. Lo scorso 28 giugno era sfuggito alla cattura nell'ambito dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP di Bari nei confronti di 27 persone accusate di aver partecipato ad un sudalizio dedito al narcotraffico riconducibile al clan Annoscia operante a Noi Cattaro ma con un'articolazione attiva nella città di Altamura. Oggi per un cinquantenne barese è terminata però la latitanza dopo che i carabinieri del comando provinciale di Bari lo hanno individuato nel borgo antico di Mola di Bari e arrestato. Nel corso dell'operazione che ha portato alla sua cattura è stato denunciato anche un altro uomo, un 63enne, per il reato di favoreggiamento. I carabinieri del reparto operativo hanno fatto irruzione in una casa del centro storico della cittadina del barese a seguito di lunghe e articolate ricerche avviate nello scorso mese di giugno quando l'interessato si era reso irreperibile. Indagini capillari che hanno consentito di individuare il nascondiglio in un appartamento sito al terzo piano di un condominio del centro storico dove i militari sono entrati avvalendosi di una scala e passando dal balcone. All'atto della cattura l'indagato che si è visto piombare addosso i carabinieri mentre guardava la televisione nella camera da letto non ha opposto resistenza e ha collaborato alle successive fasi di perquisizione e sequestro dei due telefoni cellulari rinvenuti. Secondo l'impianto accusatorio accolto dal GIP ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un sodalizio dedito al narcotraffico in tutti i suoi elementi sintomatici e cioè una struttura gerarchicamente articolata composta da organizzatori, promotori, dirigenti e partecipanti che grazie al controllo del territorio riusciva a gestire il mercato degli stupefacenti con la disponibilità di armi e munizioni. A circa sei mesi dall'assassinio del 19enne Paolo Stasi sotto la sua abitazione a Francavilla Fontana confessa il presunto esecutore materiale dell'omicidio il 18enne Luigi Borraccino ho sparato, dice ma non volevo uccidere Ho sparato ma non volevo uccidere Queste le parole di Luigi Borraccino il 18enne di Francavilla Fontana nel Brindisino in carcere dallo scorso 22 maggio con l'accusa di aver ucciso il 19enne Paolo Stasi a novembre dello scorso anno Poche ore fa l'interrogatorio del giovane minorenne all'epoca del delitto dinanzi al procuratore del Tribunale dei minorenni Simona Filoni e del sostituto Paola Guglielmi Colloquio nel quale Borraccino ha chiarito la sua posizione tra cui la circostanza che i colpi esplosi dall'arma che aveva in pugno sono i suoi ma che ha dichiarato non era sua intenzione uccidere il giovane A sei mesi da quel tragico fatto di cronaca è stato lo stesso Luigi Borraccino arrestato insieme ad altre due persone a chiedere di essere ascoltato come raccontato dal suo legale Secondo quanto ricostruito dalle indagini fino ad oggi il ragazzo esecutore materiale dell'omicidio avrebbe fatto scendere di casa Paolo Stasi con una scusa per poi sparargli a sangue freddo davanti al portone di casa Suo complice è un ragazzo di 21 anni che lo avrebbe atteso a bordo di un'auto con la quale i due sono fuggiti dopo il delitto Alla base del gesto con tutta probabilità una situazione debitoria dell'ammontare di circa 5.000 euro dello stesso Stasi è conseguente all'attività di spaccio di droga sul territorio E sono stati sospesi due studenti 17 anni che frequentano l'istituto Roma Nazi di Bari che la scorsa settimana hanno portato in classe e usato una pistola in plastica contro un docente Le sospensioni avrebbero una durata compresa tra i 7 e i 14 giorni restando così di competenza del Consiglio di classe che ieri si è riunito in sessione straordinaria Se infatti la sospensione fosse stata superiore ai 14 giorni la decisione su una possibile espulsione sarebbe stata vagliata dal Consiglio di istituto E ancora con la cronaca il Tribunale di Potenza ha condannato a 7 anni con interdizione dal pubblico servizio un autista del 118 dell'azienda sanitaria di Potenza L'uomo, 46 anni, residente in provincia di Matera è stato ritenuto responsabile di violenza sessuale nei confronti di un'infermiera durante un turno di lavoro Lo ha reso noto la CGLFP di Potenza che ha sottolineato come la sentenza metta un punto fermo su una vicenda dolorosa E poi a Bari i lavoratori portuali, associazioni che si occupano di accoglienza e CGL aderiscono all'osservatorio contro l'esportazione di armi nei paesi coinvolti dalle guerre Vediamo il servizio Si intitola Affari di Pace ed è il progetto a cui è aderito il Comitato per la Pace di Bari per estendere la lotta già partita dai lavoratori portuali di Genova all'esportazione di armi alle zone del mondo protagoniste di conflitti e guerre Un'obiezione di coscienza che si attua attraverso il rifiuto di caricare materiale bellico sulle navi destinati a quei paesi e per il cui scopo è stato attivato un gruppo di lavoro coordinato da Pax Christi e dall'osservatorio Weapon Watch di Genova a cui contribuisce l'associazione Stella Maris che raduna alcuni lavoratori del porto di Bari L'osservatorio nasce quattro anni fa dopo un boicottaggio dei portuali genovesi di una nave saudita ecco da questo esempio abbiamo tratto l'occasione per fondare insieme ai portuali un osservatorio che desse come dire anche il quadro anche geografico di dove le armi vengono commerciate fisicamente passano a trasporti ai aeroporti italiani noi pensiamo che questo lavoro di informazione sia utile per stabilire le basi materiali di che cosa è la guerra oggi e dell'implicazione dei paesi europei in questa guerra Alla rete aderisce anche CGL Bari da sempre al fianco dei lavoratori per la tutela della sicurezza ma anche in generale dei diritti fondamentali dell'uomo La CGL sarà in campo il 7 ottobre insieme a tantissime associazioni a tantissimi movimenti per percorrere appunto la via maestra per rimettere al centro la costituzione i diritti costituzionali dentro cui c'è anche un pezzo importante dedicato al diritto all'asilo che chiunque può chiedere nel momento in cui viene e fa ingresso nel nostro territorio, nel nostro paese e può essere trattenuto solo per misure eccezionali e straordinarie e quindi noi il 7 saremo in piazza e siamo qui oggi anche a celebrare la giornata internazionale del rifugiato proprio perché si tratta di rispettare e praticare i diritti umani Cambiamo adesso argomento proseguono le audizioni alla Camera del Decreto Legge Sud che prevede anche l'istituzione della ZES Unica del Mezzogiorno per la ZES Ionica partecipa il commissario Floriana Gallucci i territori intanto sperano nella continuità Partecipa anche il commissario alla ZES Interregionale Ionica di Puglia e Basilicata Floriana Gallucci alla seconda giornata di audizioni alla Camera sul Decreto Sud il quale prevede l'accorpamento delle attuali 8 zone economiche speciali dal 1 gennaio 2024 data dalla quale scatterà fino al 31 dicembre 2026 il credito di imposta per le imprese che acquisteranno beni strumentali solo uno degli incentivi previsti per le aziende investitrici assieme allo snellimento degli iter amministrativi e per le concessioni Sicuramente è molto positivo l'allargamento a tutto il mezzogiorno della zona economica speciale peraltro avevamo su questo tantissime istanze imprese fuori ZES e quindi sotto questo profilo sicuramente un giudizio molto positivo anche insomma a nome del nostro commissario Da capire come si organizzerà la cabina di legge a ZES interministeriale presieduta dal Ministro per il Sud del PNRR Raffaele Fitto con gli otto presidenti delle regioni meridionali una governance unica insomma che sulla base di un piano strategico triennale e una struttura di missione per la ZES garantisca semplificazione amministrativa e la finalità di strumento di politica industriale e infrastrutturale della ZES Conservando e proseguendo si auspica quanto fatto fino ad oggi Per la ZES Ionica si parla di 46 istanze avanzate dagli investitori 14 autorizzazioni rilasciate 60 milioni di investimenti proposti 47 milioni autorizzati o in corso di autorizzazione 499 unità lavorative previste Nell'ambito del DL è prevista un periodo per assicurare la continuità quindi un periodo in cui probabilmente i commissari per tutto a quel punto allargando la zona a tutto il territorio della Basilicata per quanto ci riguarda e a tutto il Tarantino più Francavilla Fontana della provincia di Brindisi diciamo saranno in carica per le autorizzazioni fino a che ci sarà la data stabilita dal DPCM per il passaggio di consegne definitivo alla nuova organizzazione Lavoro e difesa nasce l'USIMAR nuova realtà sindacale per i marinai la campagna dei tesseramenti parte da Taranto capitale della Marina Militare vediamo una categoria di lavoratori quella dei marinai con caratteristiche specifiche dai lunghi periodi di imbarco a tutte le attività per la difesa della nazione da tutelare dunque con un sindacato dedicato da qui la costituzione dell'unione sindacale marinai frutto della legge 46 del 2022 e che proprio da Taranto avvia la campagna di tesseramento io insieme al mio consiglio direttivo vista la ventennale esperienza che abbiamo nel settore della rappresentanza militare il vecchio sistema di rappresentatività dei militari abbiamo deciso di dare una continuità e quindi di far sì che quel patrimonio di conoscenze di conoscenze non andasse perso e quindi abbiamo costituito l'unione sindacale marinai abbiamo deciso di cominciare proprio da Taranto perché riteniamo che Taranto sia la capitale della Marina Militare e in particolare dalle scuole sotto ufficiali perché questo proprio per trasmettere quel senso di importanza che diamo alla formazione le scuole sotto ufficiali riteniamo che siano veramente importanti però perché sono un punto di incontro fra culture ed esperienze di tutta Italia quello che possiamo dire ai colleghi è di iscriversi non solo perché possiamo dare dei servizi non solo perché possiamo rappresentarli in maniera importante al governo e alla politica ma soprattutto per essere partecipi del loro destino professionale della loro condizione professionale ma anche per essere anche più incisivi nel bene della società che poi è il primo motivo per cui siamo militari e quindi siamo al servizio della nazione e ci spostiamo ora invece a Foggia città che omaggia la testimonianza unica del giudice Livatino ucciso dalla stida siciliana e beato per la chiesa cattolica coinvolti anche gli studenti delle scuole superiori vediamo la giustizia è necessaria ma non sufficiente e può e deve essere superata dalla legge della carità che è la legge dell'amore verso il prossimo diceva così Rosario Livatino il magistrato ucciso dalla stida da Grigento all'uomo di giustizia e fede venerato come beato e martire dalla chiesa cattolica Foggia dedica riflessioni incontri ad una mostra perché sia operatori di diritto o di giustizia alla ricerca di verità noi non siamo Dio non possiamo leggere nel cuore delle persone e dobbiamo giudicare i fatti accertare i fatti sulla base di quello che emerge senza avere la pretesa di raggiungere a tutti i costi un accertamento di verità però la tendenza deve essere necessariamente quella di cercare la verità e di poterla affermare il discrimine tra operatori di diritto e operatori di giustizia almeno per come ce la propone la vita del beato Livatino e la serietà l'impegno in non scegliere la via comoda quella facile quella sciatta scegliere la via della serietà professionale a seguire le testimonianze di Livatino esempio per chiunque operi nel diritto ci sono anche gli studenti foggiani un monito per vivere di giustizia lui è stato condannato a morte dal capoclan locale perché non si è accontentato della via più comoda dare il minimo della pena ha scelto la via più difficile e per questo si è inimicato il capoclan locale che poi ha determinato ha deciso la sua morte l'esperienza per esempio del giudice non è un'esperienza di mediazione è un'esperienza di è un tentativo con gli altri che lavorano all'interno di tutto questo settore della giustizia di raggiungere un accertamento di poter dire una parola che ponga fine ai conflitti o indichi come un fatto si è svolto e se c'è una responsabilità si svolgono oggi e domani i job day organizzati dall'università degli studi di Bari per fornire agli studenti la possibilità di incontrare le aziende presenti sul territorio vediamo il servizio 60 aziende in cerca di giovani talenti in occasione dei job day organizzati dall'università degli studi di Bari Aldo Moro neolaureati e studenti hanno avuto la possibilità di incontrare direttamente i grandi player presenti sul territorio i job day che organizziamo periodicamente con l'agenzia del placement che è un corpo diciamo importante dell'università di Bari sono pensati per mettere in contatto laureandi e laureati dell'università di Bari con le aziende del territorio anche fuori dal territorio quindi l'obiettivo è quello di seguire gli studenti soprattutto i laureati anche dopo il corso di studi il corso universitario di far crescere le loro opportunità sul territorio e anche viceversa di portare le aziende nell'orbita dell'università di Bari sempre con l'ottica diciamo della crescita del sistema il 3 ottobre nel campus di economia a Bari spazio alle aree di interesse economica amministrativa marketing finanza statistica e sostenibilità il 4 ottobre invece nel campus Ernesto Quagliarello si terranno gli incontri relativi ai settori scientifici tecnologici biologici e agrari l'opera dell'agenzia del placement non si ferma soltanto qui perché diciamo loro raccolgono i curricula degli studenti e le richieste delle aziende e le mettono a sistema in qualche modo in maniera da far licitare l'incontro dal 6 all'8 ottobre nel Parco Nazionale dell'Altamurgia si terrà il Festival della Ruralità un'occasione unica per scoprire e valorizzare le eccellenze del nostro territorio vediamo storie paesaggi sapori e biodiversità saranno i protagonisti della nuova edizione del Festival della Ruralità organizzato dal Parco Nazionale dell'Altamurgia intitolato quest'anno il cibo che narra tre giornate dal 6 all'8 ottobre per scoprire le eccellenze del territorio volano di sviluppo agroalimentare ma anche turistico il programma è fitto dialoghi intorno al cibo laboratori esperenziali itinerari alla scoperta dei paesaggi e poi ancora show cooking degustazioni due mostre e concerti con ospiti d'eccellenza il duo Fabrizio Bosso e Giulian Olivier Mazzariello tre giorni dedicati al patrimonio gastronomico del Parco che sarà direttamente raccontato dagli agricoltori e dai produttori e anche presenteremo un bando molto importante con Artipuglia il bando Parco Innova che vuole finanziare tutti quei progetti innovativi nell'ambito del monitoraggio della biodiversità dell'economia circolare e anche della promozione turistica ed enogastronomica a fare da cornice al festival sarà la masseria Cimadomo a Corato è proprio quell'obiettivo del turismo dieci mesi l'anno di valorizzare anche le aree interne grazie all'intuizione del Parco di Altamurgia di aprire questo festival della ruralità coinvolgendo proprio le comunità delle aree interne il festival della ruralità ha sottolineato l'assessore all'agricoltura Donato Pentassuglia permetterà di porre l'accento sull'importanza della cultura e della sensibilizzazione verso le nuove generazioni per la tutela dell'ambiente c'è un confronto di idee di azioni c'è un confronto culturale sulle diverse opzioni in campo che sono quella che parte dai parchi che torna al mare quella dei centri storici che torna ad una agrobiodiversità diffusa che va tutelata va valorizzata va diciamo esclusa dagli scempi che la mano umana come a Santa Cesaria ieri ha messo a rischio un ecosistema continua la rassegna Notte Sacre di Bari ieri sera nella Basilica di San Nicola l'esibizione dell'orchestra da camera di Perugia Canticum Novum di Solomeo vediamo come è andata portiamo un programma molto interessante di musica contemporanea di un compositore americano Dan Forrest al quale nel 2019 abbiamo commissionato un paternoster dedicato a sua santita Papa Francesco poi per ovvi motivi per la pandemia non siamo riusciti a organizzarne la prima esecuzione che è stata rimandata fino al 2023 22 chiedo scusa e abbiamo fatto questa prima esecuzione mondiale per il nostro festival a Solomeo e lo proponiamo qui a Bari in questa splendida cornice della Basilica di San Nicola in un festival così importante insieme al paternoster di Dan Forrest seguiremo un requiem for the living che lui ha scritto nel 2013 è un requiem particolare pieno di luce un requiem che è pensato non solo per coloro che se ne vanno ma per dare conforto a coloro che rimangono e rimpiangono i defunti in questo le chiese poi tra l'altro in un contesto così bello e con un repertorio specificamente pensato per la chiesa non può far altro che aiutare all'ascolto alla meditazione e alla preghiera quindi siamo molto contenti di contribuire a questo scopo così nobile e a Matera invece nella chiesa di San Pietro Caveoso il primo capitolo rituale della Commenda Ugone dei Pagani rito legato ai Templari i Templari furono uno dei primi e più noti ordini religiosi cavallereschi cristiani medievali la loro presenza è attestata anche in diversi comuni della Basilicata e della Puglia il Cammino dei Templari è un progetto che Ente Proloco Basilicata e Soet hanno avviato nella città di Matera atteso a coinvolgere l'intero territorio lucano le regioni limitrofe Puglia e Campania per la valorizzazione turistica dei borghi lucani legati ai riferimenti storici della significativa presenza templare in questa cornice nei giorni scossi a Matera si è tenuto il primo capitolo rituale della commenda Ugone dei Pagani la giornata è una cerimonia particolare in cui si incontrano diversi confratelli del nostro sodalizio templare provenienti da tutta Italia noi per esempio proveniamo dalla Sicilia e da Catania ma abbiamo fratelli e sorelle che vengono dal Lazio dalla Puglia e così via ed è un momento in cui si vedrà l'ingresso di nuovi membri nel sodalizio e si rinnovano i nostri giuramenti e onoriamo tutti i cavalieri templari che ci sono al mondo anche se non sono dello stesso nostro ordine sono sempre nostri fratelli per cui l'onore è grandissimo e rispettiamo l'antica tradizione dei cavalieri templari facendo la cerimonia all'interno di una chiesa spettacolare come vedete il rituale rispetta anche alcune forme geometriche in cui ci si dispone un quadrato un tipico quadrato templare dove all'interno del quale cerimoneremo e praticamente dove eleveremo dei cavalieri tre cavalieri templari e dei postulanti ci sarà una bellissima cerimonia sacra la spiritualità è una situazione estremamente importante per ogni essere umano laddove manca la spiritualità non non conclude assolutamente nulla o meglio può fare solo danni noi veniamo per esempio dalla Sicilia ci sono i confratelli che vengono dal Lazio alcuni che vengono dalla Puglia quindi un momento bello per stare insieme e a Stigliano invece è stato presentato il cortometraggio dal titolo il morso del drago vediamo di cosa si tratta una storia di diversità amicizia scoperta inclusione presentato a Stigliano il cortometraggio il morso del drago ideato diretto interpretato dagli allunni dell'istituto statale superiore Felice Alderisio di Stigliano alla presenza tra gli altri del dirigente scolastico Gesù Ferruzzi e del direttore scientifico Carlos Solito il film che ruota intorno alle maglie narrative della nota leggenda locale del drago che terrorizzava questi territori racconta di due giovani adolescenti interpretati da Maria Danila e Simon Pietro Micucci i quali celebrano l'unione delle culture cristiana e musulmana il morso del drago pone un focus sulle criticità di un territorio periferico delle aree interne lucane sul quale insistono diverse problematiche dispersione scolastica dissesto idrogeologico spopolamento disoccupazione è importante la tematica affrontata quella dell'inclusione che mi auguro possa essere una realtà e non solo uno spot pubblicitario il progetto del cinema come anche altri progetti che abbiamo fatto in passato qui a scuola ha permesso a molti studenti di poter uscire da quest'area cosiddetta depressa e poter dare uno sguardo al mondo e dare il loro sguardo al mondo siamo riusciti a realizzare questo prodotto proprio perché ci siamo impegnati dal primo momento abbiamo seguito le lezioni appunto teoriche in classe e ciò che abbiamo studiato e quello che abbiamo applicato proprio per realizzare il cortometraggio il piano nazionale cinema immagini per la scuola del ministero della cultura e del ministero dell'istruzione e del merito ha premiato la candidatura del morso del drago per aver esplorato e narrato la marginalità dell'area interna della collina materana e a Matera si torna a parlare della festa della Bruna è stato annunciato infatti il tema del carro e nelle prossime ore ci sarà la pubblicazione del bando allo spezzar del pane i discepoli di Emmaus lo riconobbero e dissero non ci ardea forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino quando ci spiegava le scritture e questo è il tema del carro trionfale 2024 per la festa della Bruna Matera tratto dal Vangelo di Luca e scelto dal capitolo cattedrale l'annuncio è avvenuto durante la Santa Messa celebrata da Monsignor Caiazzo alla vigilia della pubblicazione del bando per la realizzazione dell'opera di cartapesta abbiamo pensato insieme al capitolo cattedrale proprio di scegliere partendo dal tema che la chiesa italiana ha proposto e di guardare durante tutto questo anno insieme a Maria quello che è il cammino che noi dobbiamo compiere un cammino di conversione un cammino che richiede ascolto della parola un cammino che richiede nuovo entusiasmo quest'anno è il Cristo risorto che si affianca in maniera discreta quasi di messa si affianca a questi due discepoli con il volto triste il cuore appesantito perché si sono viste disattese tutte le loro aspettative ritornano indietro regrediscono mi verrebbe da dire Gesù si fa il loro compagno di viaggio sabato prossimo nel palazzo Malvini Malvezzi alle ore 11 ci sarà la conferenza stampa dove sarà illustrato il tema e sarà spiegata la scheda per la realizzazione della parte centrale e questa era la nostra ultima notizia l'appuntamento è con la prossima edizione del nostro telegiornale buona giornata grazie a tutti